Buongiorno a tutti, qui Arduino Schianato e Airforex. Oggi vorrei soffermarmi con voi per parlare di due temi molto importanti del trading da un punto di vista proprio tecnico, probabilistico se vogliamo, e che sono necessari, almeno uno dei due, fare quadrare per poter essere poi profittevoli, per far quadrare i conti a fine mese e a fine anno. Uno è quello che spesso viene proposto nella rete, dai tantissimi imbonitori, se vogliamo, da chi vuole vendervi per forza il proprio sistema, magari automatico, cose di questo tipo, ovvero la percentuale di profitti sulle perdite, quello che in gergo viene chiamato win rate, quindi il tasso di vincita, questo spesso viene propagandato come la cosa migliore perché noi esseri umani siamo più propensi a comprare un qualcosa che tende a non perdere mai o a perdere poco, quindi viene spesso proposto il sistema con il 93,6% di profittabilità o cose di questo tipo. C'è del vero nel senso che è ovvio che se noi abbiamo una statistica che negli ultimi X anni con quel tipo di comportamenti potremmo avere un tasso di profittabilità di questo tipo, diciamo non siamo mai certi del futuro, però abbiamo questo. di base comunque, al di là appunto di queste pubblicità spesso ingannevoli, poco etiche e che non condivido, c'è del vero appunto perché il fatto di avere una percentuale di profitti alta o bassa può incidere poi alla fine del mese, alla fine dell'anno. e c'è un'altra cosa poi che incide, quindi la prima cosa è questa e quindi a cui noi dobbiamo essere dobbiamo dare, diciamo, attenzione e la seconda cosa è quello che viene chiamato risk reward ratio, ovvero il rapporto tra rischio e rendimento, rapporto tra profitti e perdite questo viene, diciamo, meno pubblicizzato nei sistemi in grande voga, no? e che fanno un po' di... che tendono a cogliere il nostro cervello più propenso, diciamo, a... più istintivo, ecco però anche il rapporto da risk reward, quindi tra il nostro costo e il nostro guadagno spesso viene pubblicizzato e propagandato in maniera, a mio avviso, non corretta perché i sistemi che fanno l'uno a dieci risk reward, no? è abbastanza ridicolo e spesso a livello automatico, anzi è normale, la statistica dice questo più alzo il rapporto tra rischio e guadagno nella singola operazione, poi in una serie di x operazioni e più si abbasserà il mio rapporto di vincita, il mio win rate, no? il mio tasso di vincita però in un trading discrezionale, diciamo che si possono andare a lavorare entrambi in maniera intelligente io ovviamente sono un trader discrezionale, non faccio trading algoritmico anche se nel passato ho avuto esperienze di questo tipo, anche però sono un trader discrezionale, quindi io ragiono sempre sul mercato e ragiono anche su quello che è non solo il grafico in sé, la tecnica ma ragiono anche sulla economia del mio trading cioè l'amministrazione, quindi devo cercare di far quadrare i conti a fine mese e quindi devo andare a, non per forza, ragionare da siccome lì tecnicamente c'è un target o lì c'è una situazione devo fare per forza delle cose cioè il mio trading discrezionale, essendo discrezionale può fare dei ragionamenti utilizzando delle sensibilità che devono far quadrare i conti poi a fine mese ve lo dice, ripeto, un trader che lo fa da tanti anni e cerca ogni mese di far quadrare i conti, ok? questo è un po' la cosa tra l'altro ho una famiglia anche con due figlie una moglie, ho degli animali cioè non è che devo far quadrare i conti quindi questi due dati questi due dati, quindi il rapporto tra profitti e perdite e il win rate, che è un tasso di guadagno diciamo un tasso di vincita come viene detto in gergo un po' in modalità gioco anche se sappiamo che a me non piace utilizzare questo termine per il trading perché per me non è un gioco assolutamente quindi che poi ci sia una passione dietro assolutamente per me non è un gioco perché se non caccio fuori i soldi è un problema non è un gioco, è un lavoro quindi ecco che questi due dati vanno presi ovviamente in considerazione io voglio farvi vedere visto che ve l'ho fatto vedere qui il conticino che sto iniziando a far salire sta continuando a salire tra l'altro ma non è questo il tema di oggi però vorrei prendere spunto da quello per farvi capire delle cose allora condivido una paginetta che è quella del conto reale piccolino che vi ho condiviso anche qui nelle ultime video e vi faccio vedere nel mese di settembre quello che è successo allora percentuale di profitti sarebbe il win rate rapporto profitti perdite sarebbe il risk reward ecco questo è il mio mese di settembre in questo piccolo conto che sto cercando di far salire e l'obiettivo è quello di un po' alla volta farvi vedere come farlo salire come riuscirò a farlo salire però una delle cose importanti è quella che io devo avere almeno uno di questi due dati almeno uno deve essere deve deve essere altino diciamo non può io non posso avere una percentuale di profitti del 30% e avere un rapporto profitti perdite non so 0,81 perché sarò in perdita quindi potrei avere un rapporto profitti perdite facciamo un esempio 0,81 ma avere magari un 85% di percentuale di profitti a quel punto a fine mese io sarò profittevole come anche potrei avere una percentuale di profitti del 30% e con questo tipo di rapporto profitti perdite essere comunque in guadagno quindi diciamo che se io riesco a mantenere come in questo caso una percentuale di profitti che si attesta maggiore del 50% come nel mio caso a settembre e il rapporto profitti e perdite addirittura maggiore a 2,1 in questo caso quasi a 3 guardate profitto medio 92,06 perdita media 35,20 allora siamo su un top di mese su un top di sistema in realtà questo non è un sistema automatico sono io per farvi capire quanto il profitto è causato da determinate cose non solo una non perché faccio tantissimi profitti il 90% dei profitti faccio bene per forza non è detto perché se io poi rapporto profitti e perdite dovessi avere 90% dei profitti e ho facciamo esempio qui ho fatto 18 operazioni e faccio 16 operazioni il 90% più o meno è quello 15 16 operazioni su 18 e le faccio tutte in profitto e chiude tutte con 3 euro 3 euro 3 euro 5 euro e poi faccio due perdite da 150 euro l'una io avrò una percentuale di profitti del 90% ma il rapporto profitti e perdite sarà assolutamente negativo per me quindi sarà 0,1 0,10 contro 1 è ovvio che io poi subirò una perdita diciamo che questo è un mese buono perché in questo caso sono riuscito a mantenere il più del 50% e di win rate e il profitti e perdite superiore molto superiore a 2 vi faccio vedere una cosa facciamo dei conti io in questo caso facendo proprio i conti ho 61% con questo tipo di questo è il vero risk reward il risk reward non è il rapporto al risk reward non è sulla singola operazione voi sapete io uso il paracadute uso i target li metto poco la gestisco potrei non mettere lo stop addirittura io personalmente per come trado metto lo stop per avere una linea di massima nella quale stoppare ma io difficilmente io non chiudo quasi mai sullo stop in macchina non mi capita da tempo mi è capitato raramente negli ultimi anni io chiudo molto prima se il mercato non va dalla mia quasi subito io esco ed ecco che questo aiuta ad avere poi un vero rapporto tra risk reward perché a volte io vi ho spiegato ad alcuni di voi anche il paracadute eccetera ma da alcuni non è stato capito perché non avete capito come va gestito il paracadute va gestito in questo modo potremmo neanche metterlo lo stop ma va gestito il rapporto risk reward reale che è quello non preventivo sul grafico e sulla singola operazione che spesso viene poco come dire disciplinatamente usato perché siamo tutti bravi mettiamo lì rischio di 100 ah ne posso guadagnare 800 poi arrivi da 1, 2, 3, 4, 5, 6 perdite 7 consecutive quella che ti potrebbe fare gli 800 non la tieni perché ovviamente appena ti recupera quei 200 euro li porti a casa dici cazzarola sono arrivato da 6 perdite consecutive non lo faccio quindi questa è una delle questioni assolutamente importanti quindi il risk reward non valutato nella singola operazione ma nel contesto di un quadro di un mese 3 mesi 1 anno quindi in rapporto a svariati trade in questo caso il mese di settembre e in questo caso però guardate questo mi permetteva e di essere comunque in profitto non come quanto sono stato in profitto a settembre ma comunque bene anche se io avessi avuto una percentuale di profitto minore guardate se io mettevo una percentuale di profitto del 30% quindi ben oltre ben inferiore al 50% sarei stato comunque in buon profitto io ho fatto 18 trade qui nel mese c'è scritto questo è un conto reale che è quello che faccio vedere sempre 18 trade sul sul mese di settembre 11 in profitto e quindi 7 in perdita bene se io prendo le perdite quindi 35 euro e 20 profitto medio per esempio per 7 io avrei una perdita media di 246,40 io prendo i 92,06 che è il profitto medio per gli 11 in profitto quindi per 11 ah no ma questo è no volevo fare una cosa diversa scusate se io prendo il 30% quindi prendo i 18 stavo ricalcolando quello che ho guadagnato nel settembre in questo conto ma non è quello che era il mio obiettivo 18 scusate per il 30% quant'è 5,4 trade poi 5,4 non si può neanche facciamo un pelo meno quindi vediamo se riusciamo a fare una cosa 18 per il 28% 5 5 trade cioè io andiamo a vedere se io avessi avuto il 28% di percentuale profitti con la profitto medio e perdita media quindi 5 trade in guadagno 5 per 92,06 e 35,20 18 meno 5 fa 13 per 13 uguale 4,57 guardate qua 4,60 meno 4,57 vuol dire che io anche con un con questo tipo di rapporto profitti perdite anche con una percentuale di profitti un win rate del 28% io a fine mese non avrei guadagnato avrei guadagnato 3 euro sarei andato a break even però vedete com'è importante com'è importante o teniamo alto questo o questo o in un trading discrezionale se riusciamo ad avere una gestione attiva e cercare di mantenere non troppo basso questo ma neanche troppa differenza tra i costi che abbiamo e i profitti che abbiamo abbiamo la chiave perché questa mediana diciamo mi ha permesso mi ha permesso in passato mi ha permesso al mese di settembre e mi permetterà di avere una difficoltà nel trovare dei mesi non dico in perdita che ci saranno qualche mese in perdita ma dei mesi in grande perdita è molto difficile perché in modo discrezionale io e in modo versatile vado a cercare di gestire la cosa quindi vedete com'è importante se voi state facendo trading cercate di capire che tipo di mesi state facendo e cercate di lavorare su questi dati ecco perché uno dei segreti se vogliamo chiamarlo così del trading è quello di mantenere i costi bassi il taglia le perdite far correre i profitti è un detto che secondo me ha tanto valore è vero che è un po' magari sembra un po' banale perché lo sappiamo l'abbiamo sentito in un sacco di occasioni va bene ma è proprio quello cioè noi dobbiamo quando il mercato ci va contro chiudere in perdita subito quando il mercato va invece non limitarci a mettere un target lì attaccato o a chiudere perché abbiamo paura che torni indietro proviamo a fare andare e poi al massimo chiudiamo quando il mercato ha generato una fiammata per esempio ma lasciamolo andare con la fiammata proviamo a prendere quel movimento ecco che allora il rapporto tra profitti e perdite sarà nel tempo più a favore dei profitti in questo caso vedete io non ho parlato di risk reward sul single trade assolutamente però la percentuale di profitti sicuramente si riuscirà a gestire tra l'altro una cosa che può succedere io per esempio in questi in questi sette trade in perdita ho fatto perdite principalmente piccoline molto piccoline non ho fatto perdite grosse perché perché nel momento in cui lui mi girava la mia perdita la mia perdita più grossa probabilmente era la metà meno della metà del mio stop loss massimo che avevo dato sulla singola operazione cioè vi rendete conto quindi facciamo esempio io avevo dato come stop massimo stop paracadute massimo 100 euro alla fine la mia perdita più grossa è stata tipo 45 è ovvio che poi se quando lui va e io riesco a fare più volte 100 130 150 ecco che mi viene fuori questo dato che è circa quasi 1 a 3 di rapporto profitti perdite quindi il mio oggi il mio video è un cercare di consapevolizzare rispetto a due temi macro temi che nel trading vengono molto discussi e in molte occasioni in maniera a mio avviso anche ben approfondita in altri in altri casi meno il mio era proprio così un un darvi un senso di provate a guardarvi anche cosa state facendo cercate di capire perché lì magari c'è anche lì una fonte di miglioramento nell'attività di trading che state facendo se fate un trading discrezionale diventa un po' diverso diventa completamente un'altra un altro campionato se vogliamo perché lì poi vanno costruiti dei bilanciamenti tra sistemi c'è tutto un altro un altro modo di di guardare al trading sistematico nel trading discrezionale invece provate a guardarvi cercate di farvi delle statistiche di quello che state facendo cercate di capire e quindi guardare proprio i dati quando perdete quanto perdete quando guadagnate quanto guadagnate e quante volte guadagnate allora lì cercate di bilanciarvi nel momento in cui siete nel trade nei trade quindi durante il giorno durante la settimana durante il mese guardatevi da fuori cercate di far finta di essere un'altra persona che vi guarda e quindi quando fate un'azione pensate sempre a questi due dati che dovete cercare di mantenere in un certo modo perché se no a fine mese non sarà possibile ottenere un profitto dal mercato mi sembra di aver detto tutto sì mi sembra proprio di sì comunque vi chiedo di scrivere qui commenti anzi mi farebbe molto piacere che scriviate dei commenti a supporto che mi diciate se ci sono dei temi che volete che vengano discussi qui sul canale sapete che c'è tutta l'area abbonati ho visto che vi state sempre di più iscrivendo sto facendo tantissimi contenuti approfonditi relativamente a grafici per i section eccetera quindi vedo che insomma vi piacciono tutti questi questi spunti sia di questo tipo che di tipo tecnico eccetera va bene io per oggi direi che non serve che non serve che aggiungo altro lasciate un mi piace se ovviamente vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale se volete mantenervi connessi con il forex e noi ci vediamo sempre come sempre al prossimo video buon trading simple ciao a tutti